E' festa in piazza a Casale Popolo, frazioni Casale Monferrato nell'Oltre Po, nella giornata di domenica 4 giugno. Organizzata dalla Proloco, si svolge a partire dalle ore 8.30 il motoraduno con l'inizio delle iscrizioni e poi dalle 13 ci sarà anche il pranzo in piazza. Le piante di ciliegio sono ormai una cultura tradizionale del comune di Cereseto nel Monferrato Casalese e come ogni anno torna la Sagra delle Ciliegie che si svolge appunto nel comune Monferrino domenica 4 giugno. Il programma prevede una serie di iniziative, in particolare nel salone della Proloco di Cereseto ci sarà una presenza di oggetti della tradizione contadina. Ci sarà poi un'esposizione di opere del pittore Giuseppe Marini, alle 12.30 il pranzo Celseris e nel pomeriggio dalle ore 15 chissà che cos'è, cioè un gioco per indovinare che quali sono e quali erano gli oggetti della tradizione di una volta, oggi magari andati in disuso, una simpatica anche questa iniziativa. Durante il pomeriggio ci sarà poi anche un'animazione musicale. Bazzola è in festa, sabato 3 e domenica 4 si svolge come ogni anno la tradizionale manifestazione che ha il patrocinio dell'amministrazione comunale. Sabato 3 all'ora 21 si balla con Ieva For You, domenica 4 esposizione per tutta la giornata di trattori d'epoca. Nel pomeriggio alle ore 17 uno spettacolo di fine anno dalla scuola di infanzia alla scuola primaria è alle 21 una sfilata di acconciature, ma il grande protagonista sarà nel padiglione gastronomico il fritto di mare, ovviamente di pesce, che ha fatto conoscere dappertutto i cuochi balzolesi. Domenica 4 giugno si chiude la Sagra delle Fragole a Borgo San Martino, comune della pianura casalese tra Casale Monferrato e Valenza, famoso soprattutto per i suoi orti e per le sue produzioni orticole. Ci sarà in particolare nell'arco della giornata il mercatino alla mattina e poi un grandioso fritto misto a cena e tanta musica per tutto l'arco della giornata. A il Teatro Verdi di Pontestura e la piazza antistante del comune Monferrino hanno visto l'esibizione dei ragazzi delle tre medie dei plessi dell'Istituto Compressione di Cerrina, cioè Pontestura, Murisengo e Cerrina, per il saggio musicale di fine anno scolastico. Al pubblico i ragazzi hanno presentato brani musicali appresi durante il corso dell'anno, i docenti Valerio Biano e Mirko Cislaghi, quest'ultimo insegnante di potenziamento presso la media di Murisengo, hanno aperto la serata con alcuni brani a più voci per flauti e tastiera, concludendo poi la prima parte dello spettacolo con le ritmiche dei loro strumenti a percussione. La seconda parte della serata si è svolta invece all'interno del teatro, qui i ragazzi di Pontestura in particolare, guidati dal professor Bruno Ghidella, hanno eseguito alcune tra le più famose melodie trascritte per flauti e tastiere. Grazie a tutti.